Musica Ben ritrovati a questo appuntamento con la Rassegna Stampa, cari telespettatori di Fano TV Allora in diretta alle 7.30, ma naturalmente un saluto anche a chi ci segue durante il corso delle repliche In diretta dicevo tra poco vedremo le notizie principali con il Carlino, il Corriere ed il Messaggero Oggi il Santo, vediamolo subito, oggi è San Camillo dell'Ellis Il sole è sorto alle 5.38 e tramonterà alle 20.50 Piano piano, lo diciamo piano, ma insomma si accorciano giustamente le giornate Siamo al 14 di luglio Ed ecco la giornata di oggi, un'altra giornata di sole con temperature elevate Siamo a 23 gradi già alle 7.30 Oggi sarà cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti soltanto sui rilievi meridionali Durante le ore più calde della giornata Avremo temperature stazionarie o in lieve diminuzione Per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio Cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento I venti saranno deboli, il mare sarà poco mosso Per giovedì 16 luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso Con addensamenti più consistenti sul settore montano e collinare Nelle ore pomeridiane Avremo possibilità però di locali rovesci o temporali pomeridiani Sul settore montano e collinare Bisognerà andare a Montenerone per prendere un po' di fresco E magari qualche goccia d'acqua Temperature in aumento, i venti saranno a regime di brezza Il mare sarà quasi calmo Per quanto riguarda i giorni successivi I prossimi giorni avremo tempo stabile soleggiato Su tutta la regione Marche Anche per tutto il resto della settimana Con temperature in ulteriore e progressivo aumento Compagni, la festa dell'unità quest'anno non ci sarà Questo è l'annuncio del segretario provinciale Gostoli Naturalmente ci riferiamo a Pesaro Ci sarà una sorta di Leopolda E quindi niente più salamelle, salsiccio, cose di questo genere Stand, cose magnerecce Insomma ci sarà cultura Soprattutto si discuterà su come cambia O come cambiare il partito In un tempo che cambia Ecco allora la notizia di oggi Sulla pagina di Pesaro in primo piano Dopo 50 anni basta festa dell'unità Il suo posto arriva alla Leopolda La virata storica del Partito Democratico Vogliamo sperimentare Dicono qualcosa di nuovo Due feste dell'unità La prima di quartiere agli orti giuli da giovedì Poi appunto la mini Leopolda a fine settembre Ma sono solo quattro giorni Infatti si tratta di un evento di quattro giorni in tutto Che comunque si chiamerà festa dell'unità Tra fine settembre e inizio ottobre Ancora non si sa il luogo Gostoli lo vedete nella fotografia grande Le feste dice di partito Sono sempre più difficili da organizzare E non solo Dice anche non ci sono più i volontari Che si prendevano sulle spalle L'intero cantiere Andando in ferie Per poter lavorare negli stand E servono sponsor Perché i costi I costi di questa nuova festa Sono sempre I costi sono sempre più alti Però Insomma La festa dell'unità Sicuramente è sempre stata Una fucina di idee Tra gli organizzatori del 2006 Che è l'ultima vera festa Dell'unità Un po' così come l'abbiamo sempre conosciuta C'erano Ricci Marchetti Insomma tutta gente Che poi alla fine ha fatto strada Vimini E anche la Morani La senatrice Che è stata eletta Miss Festa 2006 La pagina di Fano invece In apertura si occupa Di politica se vogliamo Perché Santorelli Insieme ai Garbatini Quindi stiamo parlando di progetto Fano Di quel che c'è Del centrodestra Fano Vigili urbani Usati come sceriffi Santorelli denuncia Una strage di multe La città Vive uno stato di polizia Da Gimarra Quindi la parte nord di Fano Fino alla parte sud Ponte Sasso Non c'è scampo Proprio per nessuno Insomma parla di stragi di multe Sul lungomarefanese L'esponente attacca il comune Sono esattori delle tasse Al PD Servono Dice ancora Santorelli Servono i soldi Delle multe Per accontentare I propri elettori Tramite i contributi a pioggia Previsti Nella cultura Che tra l'altro Sono aumentati Questi soldi A bilancio Di 30 mila euro Questa è La notizia in evidenza Poi sotto Le lottizzazioni perdute Di Gimarra Invece Lo chiede il consigliere Del PD Pierini Che fine Farà il centro Per anziani Mentre Fratelli d'Italia I privati Stiano alla larga Dall'Aset Fratelli d'Italia Dice no Al privato In Aset La società Era Società privata Era Società bolognese Quotata in borsa E da sempre Scrivono quelli Di Fratelli d'Italia Da sempre favorevole Alla creazione Di inceneritori Si prefigge Di fagocitare I servizi di acqua I genio ambientale E gas Partendo dall'Emilia Romagna Per raggiungere Lo stivale Con l'obiettivo Di allargare Il proprio raggio D'azione Su tutto Il territorio A Fano 2 Un quartiere Evidentemente Di Fano A fuoco La pizzeria Il titolare Dice Non so se Riapro Fiamme nella notte Da Giorgio Questo è il nome Della pizzeria Al piano terra Di uno dei condomini Di Fano 2 La porta di vetri È esplosa La parete interna Le pareti Sono annerite Il televisore Si è squagliato E l'orologio È fermo Alle 1 E 40 Ad A Fano Ora si punta Sull'agricoltura L'altra notizia Sulla pagina Del resto del Carlino Un protocollo D'intesa Tra il comune E le associazioni Sugli affitti Musica Sport E tradizione Cultura Ecco le notti Colorate Dei Pergolesi Ricco programma Organizzato Dall'amministrazione Comunale Dalla serata medievale Alla notte verde Ai nomadi Per la festa Del vino A Cartoceto Invece Il giovane Segretario del PD Gianluca Longhi Che ha solo 21 anni Ha organizzato per domani Alle 9 di sera Nella sala Che si trova Nella scuola media Marco Polo Un'assemblea Che avrà come argomento Il tesseramento Per l'anno 2015 La cronaca La cronaca invece Sempre sul resto Del carlino Volevano rubare Un furgone Arrestati alla Baia Per tentata rapina Minacciato Il titolare La bottiglia Te la faccio mangiare Gli hanno detto La pattuglia Si trovava Quella dei carabinieri Vicinissima Al luogo Dell'aggressione E quindi È intervenuta Mentre Restano critiche Le condizioni Di Mattia Negusanti Il carabinieri Di 30 anni Vittima Di un grave incidente Stradale Nei giorni scorsi Sulla strada Del Boncio Al suo fianco Il fratello Mario Di Palma Che dice Mattia Ieri è stato operato Per i traumi subiti È in coma E la prognosi Resta riservata Il militare Si è scontrato Si era scontrato In moto Contro un autobut Mentre stava tornando A casa Poi sempre la cronaca Sul resto del Carlino Il tir Un tir che si ribalta In A14 Traffico in tilt In città In gorgo Torraccia Intasata Di mattina Poi La crisi Della CNA I soci Li abbiamo sempre ascoltati Dicono Ora lavoriamo Per uscire dal tunnel I vertici Dell'associazione Di categoria Barilari e Santi Replicano All'attacco Di Quaresima Poi ancora Dal Corriere Adriatico Invece La strafossombrone A Minerva E Ottaviani Lo starter D'eccezione Lo starter È il pluricampione 99enne Giuseppe Ottaviani Che ha dato appunto Il via A questa Quarantesima edizione Della strafossombrone Ideata e portata avanti Da Graziano Bacchiocchi Oro di società Per il gruppo Podistico di Lucrezia Nel giro di due punti Vince Sergio Mema Poi La novità Ospedali di Marche Nord Possibili pagamenti Anche online Quindi È la prima struttura Sanitaria Della regione Quindi le prestazioni Sanitarie Si possono pagare Non solo Lo sportello Quindi a volte Facendo anche delle file Ma negli ospedali Di Pesole e Fano Si potranno pagare Anche attraverso Internet La pagina di Fano Invece del Corriere Adriatico Allora Servizi senza gare Coinvolte tre cooperative Sono la Labirinto Crescere E Cos Marche Che hanno ricevuto Affidamenti diretti Irregolari Dall'ambito sociale Incarichi dati Con modalità diverse Sempre Alle stesse ditte Magistratura Allertata Oggi Il dibattito Finisce In consiglio Gravi In legittimità Bloccate fatture Per mezzo milione Sotto Quel che resta Del Fano De Cesari Che prima È stata pubblicizzata E poi Soppressa Oggi La presentazione Della versione Riveduta È Assai Corretta Marco Grande festa Per non Dimenticare Al Fish House L'evento A sostegno Delle cure Cure riabilitative Di Marco Borghese 21 anni Che il 15 ottobre 2014 Si è schiantato Con la sua moto Contro un albero Quella sera Dello scorso autunno Marco era uscito Per trascorrere un paio d'ore Con la propria ragazza Dopo una giornata di lavoro Ma anche a causa Della pioggia La corsa In auto È finita Contro un olmo Lungo la strada Bellocchi Sant'Orso Dunque C'è questa grande festa Per questo ragazzo Che segnato dalla sorte Ha saputo superare Mille difficoltà Questa sera Dunque Appuntamento Dalle venti Per questa festa A Marina Dei Cesari Ancora la pagina di Fano Del Corriere Adriatico La cronaca Con il camion Che si è schiantato In A14 Contro il New Jersey Nella notte Poi a fuoco Una catasta Un'acqua di legnama Adiacente al forno Di una pizzeria Fano 2 Mentre gli schiamazzi E gli atti di teppismo Ancora in primo piano Su una zona Che ormai Ci convive Con gli schiamazzi E con episodi Di teppismo Ovvero Il Lido Lido di Fano Sopra il luogo Del sindaco Tecnici residenti Focus Su via Dello Squero Subito Una nuova La nuova Illuminazione Poi Questo Guardate qui Questo bidone Che è riaffiorato In spiaggia A Sassonia All'interno C'erano decine Di litri di oli Esausti I bagnanti Hanno dato l'allarme Probabilmente Anzi sicuramente Questo Questo bidone È stato gettato Da un'imbarcazione In transito Sul contenitore Praticati dei fori Affinché Entrasse dell'acqua E la cisterna Andasse a fondo Poi in realtà A fondo Non c'è andata Ed è arrivata Lungo la spiaggia Di Sassonia Poi La strada Sulla ferrovia Tra sporcizie E degrado A ridosso Della spiaggia Di Baia Metauro Una segnalazione E soprattutto Uno spettacolo Che non è per niente Piacevole Segnalato da intere famiglie Scusate Segnalato da intere famiglie Non è segnalato Da intere famiglie Si parla di intere famiglie Di topiche Tutte un'altra cosa Che passeggiano A ridosso Dei cassonetti Dei rifiuti Lungo la strada Che rasente la ferrovia Mentre sicuramente Avranno Ha fatto questo spettacolo Per niente piacevole Ma stamattina Passeggiando Di mattina presto Anche sul Sul molo del Lino Insomma Anche lì Non era una famiglia Di topi Ma era Evidentemente Era piccolino Ma insomma c'era Stava facendo Una passeggiata Anche lui Tra gli scogli Insomma Non è messo bene Neanche il nostro Adesso È brutto dirlo Perché siamo in piena Stagione estiva I turisti che ci sentono Insomma Non stiamo facendo Una bella figura Adesso non è che La spiaggia sia piena Di topi Per carità Però negli scogli È facile che ci siano Quindi magari Prestate un po' Di attenzione Ma al di là Di questo Insomma Bisogna Bisogna fare in modo Che da una parte Chi Frequenta Questi posti Si è educato Quindi non getti Via bottiglie C'è di tutto Però ecco Dall'altra Ci vorrebbe anche Che qualcuno Raccogliesse Tenesse pulito Abbiamo perso Il gusto del bello In questa città Purtroppo È brutto da dire Ma abbiamo perso Il gusto del bello Perdere il gusto del bello È l'anticamara Della fine Insomma Perché una città Che vive di turismo Deve avere nel suo DNA Il gusto Per l'estetica E a volte Basta poco Perché sono tutte operazioni Che basta Davvero poco Per mettere A segno E per Però Vabbè Questo è Pippone Come dice qualcuno Finito Andiamo avanti Pericoli fai da te Nelle spiagge del parco Siamo a Pesaro Divieti e ordinanze ignorati C'è persino Una vecchia scala di ferro Per accedere all'ex Circolino La corda E la vecchia scala di ferro Utilizzati per avere Accesso Alla spiaggetta Sotto il cancello Di velto Per arrivare Sulla spiaggia Di focara Di velto Un cancello Si sfiora l'assurdo C'è anche il bagnino Di salvataggio Poi Sempre da Pesaro Sul corriere adriatico Porto 2 milioni e 400 mila euro Subito disponibili Per i nuovi lavori Poi l'oliveriana Acquisisce Il lascito Maglio Paolini Ancora Dai giornali L'ultimo E il messaggero Sul delitto Ferri Ultimi duelli In aula Oggi la requisitoria Del PM E gli interventi Della parte civile Domani tocca la difesa E giovedì E' attesa La sentenza Michele Il fratello di Andrea La vittima Andrea Ferri Dice Non ho visto alcun rimorso O pentimento Di Sabanov Non avrà mai Il mio perdono Non ci saranno condanne Che potranno restituirmi Andrea Il dolore resterà Per sempre Pista ciclabile Scoppia un'altra grana Dopo l'Adriatica Proteste Per via Milano Poi L'Aspes Che tiene L'Adriatica Arena E cede L'Angar La gestione del vecchio palazzetto E di Palacampanara Passa dunque Al comune Il ministro del Rio Ha reso operativo Lo stanziamento Di 2 milioni e 390 mila euro Per il secondo stralcio Del porto E ancora Dal messaggero La storia Io nuova povera Senza più un tetto E' divorziata Senza figli E' precipitata Da un giorno all'altro Dal benessere Alla disperazione E ora finirà In un garage Sono una invisibile Dice Non ho handicap Ho più di 45 anni Faccio qualsiasi lavoretto Ma non basta E mi vergogno Il responsabile Dell'Unione Inquilini Longobardi Dice I servizi sociali Devono avere più attenzione Per casi di questo genere La pagina di Fano Infine Sempre del messaggero Ambito sociale Il sindaco Farà chiarezza In consiglio Nella seduta Pomeridiana Sarà discussa L'interrogazione Presentata dai 5 Stelle Il caso riguarda Dei pagamenti bloccati Per i servizi erogati Dalle cooperative sociali Il comune ha già depositato Due esposti Uno alla procura L'altro alla corte Dei conti Anche qui Strage di multe A Gimarra E all'Arzilla Poi sotto Condannata La barista Manolesta A incastrare La dipendente Sono state le telecamere Fatte installare Di nascosto L'episodio È di 5 anni fa E che adesso È arrivato Alla fine Con il processo Che si è tenuto In tribunale È tutto Grazie per aver seguito Occhi e giornali L'appuntamento è per domani Mattina alle 7.30 Questa sera invece Alle 20.30 Il nostro telegiornale Arrivederci Grazie a tutti